Ringrazio l'onorevole Collaninno per il sostegno al Governo, ma devo ringraziare un po' tutti voi. L'onorevole Butti sul ruolo dell'Europa ha fatto quello che francamente poteva fare. Non ci sono stati contrasti all'interno dell'Europa nel decidere la politica da perseguire. L'Europa era all'inizio molto cauta, in particolare i Paesi più colpiti nel disegnare le sanzioni, ma questo era solo all'inizio. Poi ci si è resi conto che tipo di catastrofe si stava creando. E lì non ci sono state più esitazioni, e l'avete visto anche nel vostro Presidente del Consiglio. Non ci sono state più esitazioni. Siamo andati da diritti e abbiamo fatto moltissimo. Possiamo fare di più? Certo che possiamo fare di più. Lo faremo, certo. Quando? Bisogna definire il quando e il come. E questo è un altro degli altri argomenti che devono essere discussi nei giorni futuri anche al prossimo Consiglio europeo.